Sei consapevole del potenziale impatto emotivo quando qualcuno a cui tieni sembra ignorarti. La sensazione di essere trascurati può provocare una serie di emozioni, tra cui dolore, frustrazione e il timore del rifiuto, soprattutto quando il motivo di tale comportamento ti è oscuro. Tuttavia è importante sottolineare che esiste la possibilità di trasformare questa situazione in un'opportunità di crescita personale. Gli esperti di relazioni indicano otto passaggi collaudati per gestire efficacemente l'essere ignorati. Attraverso la visione di questo video e l'implementazione di tali suggerimenti in sequenza, potrai acquisire le competenze necessarie per affrontare la situazione senza sentirti più respinto. Ricorda che, mentre l'aspetto emotivo è fondamentale, è altrettanto importante mantenere una prospettiva positiva e focalizzata sulle azioni concrete da intraprendere. La consapevolezza delle dinamiche relazionali e l'adozione di passi ponderati possono contribuire a trasformare il senso di essere ignorati in un'opportunità di automiglioramento e crescita interiore. La prima cosa da chiederti è questa semplice domanda. Sei sicuro che quella persona ti stia ignorando? Potrebbe sembrare una domanda sciocca, ma è importante fare un controllo su te stesso prima di tutto. A volte pensiamo che qualcuno ci stia ignorando quando in realtà non è così. Potremmo sentirci insicuri o ansiosi e proiettare quei sentimenti sull'altra persona. Altre volte potremmo interpretare male la situazione. Ricorda che ogni persona è diversa. E il sentirsi ignorati non significa necessariamente che l'altra persona lo faccia apposta. Alcune persone hanno bisogno di più tempo e spazio per elaborare ciò che sta accadendo intorno a loro. Potrebbero attraversare un momento difficile e aver bisogno di tempo per se stesse e perciò è importante fare un controllo su te stesso prima di presumere che qualcuno ti stia ignorando. Se quindi sei sicuro che quella persona ti stia ignorando, puoi passare al passo successivo. Numero 2. Dai loro lo spazio di cui hanno bisogno. Se sei sicuro che la persona ti stia ignorando, il passo successivo è dar loro spazio. Potrebbe essere difficile, specialmente se tieni molto a quella persona, ma è molto importante rispettare le loro esigenze e concedere il loro spazio di cui hanno bisogno. Anche se non sembra, questo passo è davvero molto importante. Molti commettono l'errore di pensare che, se insistono, l'altra persona si avvicinerà, ma questo comportamento di solito ha l'effetto opposto e li allontana ancora di più. Quando concedi spazio a qualcuno, dimostri di rispettare le loro esigenze e i loro confini. Inoltre dai loro il tempo di sentire la tua mancanza e, in alcuni casi, potrebbe far loro capire quanto tengono a te, portandoli a tornare da soli. Ad esempio, se sei abituato a mandare messaggi o chiamare ogni giorno, fai un passo indietro, smetti di iniziare il contatto e vedi cosa succede. Se loro tengono a te, faranno sicuramente uno sforzo per contattarti. Numero 3. Assicurati di non essere troppo bisognoso o appiccicoso. Durante il periodo di non contatto, è importante assicurarsi di non essere bisognosi o appiccicosi. Ad esempio, quando si rendono conto che hai smesso di iniziare il contatto, potrebbero cercarti. Se lo fanno, assicurati di non rispondere subito. Sappiamo che quando riceviamo un messaggio o una chiamata da qualcuno che ci manca, è difficile resistere all'impulso di rispondere subito e dirgli quanto ci manchi. Ma la chiave qui è prenderti il tuo tempo. Non rispondere subito anche se sei tentato. Ciò dimostrerà a loro che non sei disperato per la loro attenzione e che hai una vita al di fuori di loro. C'è una spiegazione psicologica per questo comportamento. Quando ignoriamo qualcuno o non gli diamo l'attenzione che vogliono, attiviamo il principio di scarsità. Questo principio è un fenomeno psicologico che si verifica quando sentiamo di stare perdendo qualcosa o qualcuno. Questo senso di perdita ci fa apprezzare ancora di più quella cosa. Numero 4. Mantieniti occupato concentrandoti sulla tua vita e sulle tue attività. Puoi togliere i potiri alla persona che ti sta ignorando concentrandoti sulla tua vita e sulle attività. Invece di spendere tempo ed energia a preoccuparti del motivo per cui ti stanno ignorando, concentrati sul goderti la tua vita. Mantenerti occupato può anche aiutarti a evitare di rimuginare sulla situazione e sentirti ancora peggio. Questo è il momento perfetto per dedicarti ai tuoi hobby, obiettivi e sogni o per passare più tempo con amici e famiglia. Non solo ti farà sentire meglio, ma ti darà anche un senso di realizzazione. Quando la persona che ti sta ignorando vedrà quanto sei felice e soddisfatto senza di loro, potrebbe fargli capire cosa si stanno perdendo. Numero 5. Sia aperto a conoscere altre persone. Anche se dovresti concentrarti sulla tua vita, ciò non significa che dovresti chiuderti alla possibilità di conoscere nuove persone, anzi, è l'occasione perfetta per incontrare nuove persone e ampliare il tuo cerchio sociale. Non si sa mai, potresti incontrare qualcuno di ancora migliore di chi ti sta ignorando. E anche se non lo fai, conoscere nuove persone può aiutarti a distrarti dalla situazione e a sentirti di nuovo bene con te stesso. Anche questo comportamento si ricollega al principio di scarsità. Quando sentiamo di stare perdendo qualcuno o qualcosa che apprezziamo, lo valorizziamo di più. Quando la persona che ti sta ignorando vede che sta incontrando altre persone e ti stai divertendo senza di lei, attiverà quel senso di perdita e in alcuni casi potrebbe essere sufficiente per farla tornare da te e valorizzarti di più rispetto a prima. Numero 6. Sì pronto per una conversazione onesta. Se hai seguito tutti i passaggi sopra e la persona che ti sta ignorando non si è ancora fatta sentire, potrebbe essere il momento di avere una conversazione onesta con loro. Non è sempre facile, ma è importante comunicare i tuoi sentimenti e capire cosa sta succedendo. Quando sei pronto a parlarci, assicurati di farlo in modo calmo e rispettoso. Evita di arrabbiarti o accusarli di qualcosa perché questo peggiorerebbe solo la situazione. Ecco come farlo in tre semplici passi. Primo passo. Esprimi i tuoi sentimenti in modo non accusatorio. Ad esempio potresti dire qualcosa come, ho notato che sei stato distante ultimamente, è tutto a posto? Secondo passo. Ascolta ciò che hanno da dire senza interrompere. Terzo passo. Se non vogliono parlare o non ti danno una risposta soddisfacente, potresti dire calmamente qualcosa del tipo, sono qui se vuoi parlare. L'importante è mostrare loro che non li costringerai a parlare se non sono pronti, ma che sei comunque lì per loro se ne hanno bisogno. Molte volte solo avere questa conversazione può essere sufficiente per risolvere la questione, ma se non lo fa, almeno avrai chiarezza su cosa sta succedendo e potrai andare avanti con la tua vita. Passo 7. Sii disposto a distanziarti. Questo è un passaggio che richiede coraggio e autoconsapevolezza. Se, nonostante aver seguito attentamente i precedenti passaggi, la persona che ti sta ignorando non mostra alcun cambiamento nel suo atteggiamento, è fondamentale essere pronti a prendere una decisione difficile ma cruciale. Distanziarsi non implica necessariamente una cancellazione totale dalla vita di quella persona, ma piuttosto un allontanamento ponderato. Questa scelta potrebbe manifestarsi nel cessare di seguirli sui social media, eliminare il legame di amicizia virtuale o anche nel limitare il tempo trascorso fisicamente insieme. La chiave risiede nel fare ciò che è meglio per te, priorizzando il tuo benessere emotivo. A volte significa prendere le distanze da chi non rispetta il tuo valore e merita di essere trattato. Questo atto di autorispetto e autoamore è una dichiarazione potente, sottolineando il tuo diritto a relazioni che riflettano il reciproco rispetto e considerazione. Mentre la decisione può essere difficile, è una mossa fondamentale verso una vita più sana e appagante. Passo 8. Crea la tua felicità. Qualunque cosa accada è importante ricordare che sei tu a controllare la tua felicità. Non puoi fare affidamento su qualcun altro per renderti felice è qualcosa che devi fare tu per te stesso. Solo perché qualcuno ti sta ignorando non significa che devi lasciarlo rovinare la tua vita. Concentrati sulle cose che ti rendono felice e non lasciare che ciò che fanno o dicono gli altri ti influenzi in modo negativo. Se qualcuno ti sta ignorando è una perdita per loro perché si stanno perdendo la possibilità di stare con una persona incredibile e alla fine lo capiranno. Ma nel frattempo ricorda che non hai bisogno di loro nella tua vita per essere felice. Puoi farcela da solo. In conclusione è importante sottolineare che l'obiettivo di questo video non è assumere una posizione di vittima né intraprendere giochi mentali o manipolativi con la persona che ti sta ignorando. È cruciale tenere presente che le persone sono uniche e che le azioni da intraprendere possono variare in base al tipo di relazione e alle circostanze circostanti. La chiave sta nell'essere consapevoli della situazione e agire di conseguenza evitando di prendere tutto personalmente e cercare di controllare la dinamica. Il percorso più salutare e costruttivo consiste nel concentrarsi su se stessi perseguendo la propria felicità e rimanendo pronti a evolvere in base alle necessità. La persona giusta in una relazione autentica si impegnerà costantemente a includerti nella sua vita dimostrando un impegno reciproco. Se ti va lascia la tua testimonianza nella sezione dei commenti dove si apre uno spazio per condividere esperienze e strategie personali su come affrontare il comportamento di chi ignora. Ricorda che la tua esperienza potrebbe aiutare molte persone. Inoltre, se hai trovato valore in questo video, ti invitiamo ad iscriverti al canale e ad esplorare gli altri video altrettanto interessanti che puoi trovare. Grazie per essere arrivato fino a qui. Ci vediamo al prossimo video.